...con una carriera molto solida, costellata di premi, di successi, di tournée all'estero. Questo significa aver studiato tanto? Sì, aver studiato tanto, aver investito tanto sulla musica, sull'amore che ho per questa arte e aver anche avuto la fortuna di potermi esibire e raccontare le mie storie a qualcuno. E questo strumento, la fisarmonica, che cosa rappresenta per te? Beh, rappresenta la mia vita, rappresenta quello che sono stato, quello che sono attualmente e spero quello che sarò, un musicista. Cosa ci fai ascoltare? Largo alfactotum di Gioacchino Rossini. Largo alfactotum, ascoltiamo. Anche se sono sola, applauso. Ma insieme a me stanno applaudendoti da tutto il mondo. Allora, grazie Marco per questo gran finale che ci hai regalato. Ancora ti ascolteremo, però, e ricordo anche che tu collabori con grandi musicisti. Parliamo ancora un attimo di questo strumento col quale tu hai proprio una simbiosi, un corpo a corpo, direi. Sì, la fisarmonica, tutti la definiscono uno strano incrocio fra un pianoforte e un organo, ma in realtà nasce proprio come sostituto dell'organo, o meglio dell'organo portativo, uno strumento che nasce nei salotti viennesi, nella Vienna per bene le 1830 circa, e sostituisce il virginale. Ed è uno strumento salottiero. Quindi tutto il contrario della fisarmonica della musica da strada. Sì, perché subisce un fenomeno che viene definito nomadismo culturale, cioè la gente se ne appropria e la fa sua. Tu l'hai fatta tua, la consideri uno strumento, un passepartout per qualsiasi repertorio, o ci sono dei punti dove ci si esprime meglio con questo strumento? Guarda, è uno strumento estremamente eclettico, perché come l'organo ha la possibilità di avere due manuali, ossia quello sinistro e quello destro, completamente indipendenti, e questo permette di suonare qualsiasi cosa praticamente. Certo è che il tango, portato poi da Astor Piazzolla ad una conoscenza che ormai tutti sanno che cos'è, sicuramente fa sì che lo strumento si esprima molto spesso, non bene, ma molto spesso con il tango. Allora adesso ce lo fai sentire un tango, ma non solo di Astor Piazzolla, ma c'è anche un pezzo tuo, è sempre in questo ritmo? Sì, è un tango, sono abbastanza diversi, perché il mio brano è solo contigo, è un tango lento, invece Libertango di Astor Piazzolla ha un tango un po' più veloce come scansione ritmica, agogica. Allora vi sentiamo insieme e così chiudiamo in bellezza questa puntata, io vi saluto e vi lascio alle note del maestro Marco Lorusso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.